Nooo, clavoroso, non è vero Quanto è lungo da qua C'è in fata, c'è in fata Aia, attenzione E benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ma soprattutto benvenuti nel secondo episodio della 100 palloni football challenge Signori, benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video Nella primissima volta di questa challenge nuovissima su YouTube Ha partecipato Gabri che con un record di 64 si è giudicato questo primissimo turno Prima di iniziare e presentarvi l'ospite di oggi Mi raccomando ragazzi, vi invito come sempre a iscrivervi al canale Perché se arriviamo a 500.000 iscritti faccio uscire la mia 100 palloni football challenge Quindi finché non ci arriviamo non la faccio e non la farò Mi raccomando ragazzi lasciate anche like perché per me è fondamentale, è importantissimo Detto questo, signori, direi che posso farvi presentare l'ospite di oggi Non ve lo presento io ma lo farà un'altra persona E adesso andiamo dentro con questa presentazione di questa new entry Let's go! Nello scorso episodio abbiamo potuto vedere il record di Gnabry che ha segnato un totale di 64 gol su 100 Vediamo però se l'ospite di oggi riuscirà a batterlo Parliamo di Jay Pata Siamo in due oggi Dove vai? Ok, ecco di Eh ma perché sono incinta Quanto pensi di fare? Oggi? Sì, di gol circa 70 palloni secondo me faccio 70? Sì, sì, 70 palloni È un po' sopra quello che ha fatto Gnabry Eh non lo so, andate a vedere qua c'è il video, guardatelo Infatti arriverà un milione di visualizzazioni che merita Però questo sarà il record della 100 palloni football challenge Come ti senti? Ti senti carico? Sei allenato? No, allenato assolutamente no Ho voglia di fare il record ma non ho capito come funziona molto Cioè... Infatti Perfetto Noi adesso andiamo a presentare il direttore della giuria Parliamo di Andrea Cantinotti Oh direttore, buonasera Ciao Ciao a tutti Grazie Ma poi che formalità Cioè Sammo le vinchia fatti i soldi Sammo le fatti i soldi però Vederne qualcuno ogni tanto non farebbe male Speghiamo un po' le regole Ok Per i primi 30 palloni avrai un minuto solo per calciarli Per i primi 50 palloni la palla non potrà rimbalzare prima del gol Quindi se rimbalza il gol non è valido E ogni 10 palloni E come puoi vedere da qui C'è un pallone particolare Una sorta di sfido Il pallone bonus Cioè quante robe ci sono qua dentro? Poi dai 50 palloni in poi L'obiettivo sarà far gol Semplice La palla può rimbalzare I palloni non si possono toccare Cioè devo tirare come Harry Potter Con la bacchetta magica Esatto Se c'è un pallone che è un po' vicino all'altro Mi metto e lo sposto io Quindi è tutto pronto Noi siamo pronti E andiamo a presentare la cabina di regia Andiamo dai Signori ci siamo Eccola qua Let's go La cabina di regia più fresca d'Italia Signori abbiamo Isaac Shaw Nelson Chuck Ayub Elbub Hassan Il fratello di Usso Il più forte dei due Adrian Crystalov Signori Youtuber fresco fresco d'Italia Non parla tanto E Gabri Attenzione Nella scorsa hai fatto 64 Sei venuto a spiegare un po' Allora diciamo che Secondo me Farà più di me Perché appunto è il primo Un po' svantaggiato Perché non c'è uno storico Non c'è uno storico Quindi non hai motivazione per far di più No Mamma no No La madre no La madre no La madre di Jay Pat Ragazzi 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 Io mi dissocio Mi dissocio Direi che tutto pronto Possiamo dare inizio A questo 100 palloni Football challenge Andiamo Let's go Allora Pat è tutto pronto Ti ricordo che hai un minuto Per calciare i primi 30 palloni In bocca al lupo Grazie mille Dai Crepi Bene Ci siamo Un minuto di tempo Tra 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 Bene Eh beh Facile per lui Facile per lui I miei 10 secondi sono andati Facile per lui Se De Se Se 20 secondi Eh Se Bene Non puoi toccarla Non puoi toccarla Eh minchia Eh giudice Veloce 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 Non puoi toccarla Niente Hai altri 20 secondi Eh Traversa Sì Attenzione Attenzione 10 secondi Ultime 2 E buona Stop 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 Sei arrivato al pelo 59 secondi Esatti Molto bene 58 59 secondi Non lo so quanto hai fatto eh Perché alcuni ne hai sbagliati eh Ne ho sbagliati 3 secondo me Ne ho sbagliati 3 3 Ne ho sbagliati 3 Farei entrare allora direttamente il giudice per capire quanti ne ha fatti sui primi 30 in un minuto Quanto pensi di aver fatto nei primi 30? 25 26 25 26 Beh sono contento di dirti che hai fatto un po' di più 27 Sì 27 su 30 direi che Ottimo risultato Ottimo risultato Ne hai sbagliato solo 3 Secondo me potevi anche evitare di sbagliare perché se ti concentravi di più Potevi fare meglio secondo me Ora non hai più il limite di tempo Ok Ma fino a 50 la palla non può rimbalzare prima della riga di porta Ok ok va bene Ci sei? Sono pronto Allora iniziamo E allora possiamo riprendere quando vuoi La palla non può rimbalzare Traversano nei gol Palla che ritorna No Palla che ritorna Eh dai come faccio io? No palla che ritorna Buona Questa è buona No qua è impossibile No ce ne fai ce ne fai No ce ne fai ce ne fai Buona Incredibilmente Dentro Dentro Dai Buonissimo Così 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 Ah Quarantesimo Il pallone bonus Pallone bonus Buona questa 2 Bellissima questa No mica Hai bisogno? Sì Giudice Buona Bellissimo Buona Buona Attenzione Buona Buona Attenzione Non lo so eh Oddio Fuori 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 Ne ha buttati 5-6, ne ha buttati Ne hai buttato 5-6, forse gli ultimi, non so cosa è successo Mi sembravano più leggeri, forse perché la gamba era più appesantita Quindi il pallone era più leggero, sembrava Ma la porta era quella È arrivata No, vabbè, se ci provo io non entro a banco il primo Però dai, sta andando bene comunque, non è male No, non è male, però si può fare meglio Io voglio sapere dal giudice quanto sono, giudice Vai, vai, vieni Andre Non è male, ma è molto deludente questo giro, molto deludente Ne hai sbagliati Il discorso è questo, quando noi parliamo, quelle lì non verranno messe mai Quelle vengono messe solo quando lui calcia Ma non era per il contest, era perché parlavamo tra di loro Di sicuro non stai andando malissimo, ma questo giro è un po' deludente Ne hai sbagliati addirittura 7 Male, male, male 13 su 20 Malissimo, tipo 63 per cento, malissimo Sembra un Gnabry Nooo Allora, no, c'è da dire che lui ha più difficoltà perché avendo la pressione di Beatrice a guardare Questo è vero, ma io a differenza di Gnabry sono abituato a gestire queste cose Adesso, 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 vieni facilitato in realtà Perché la palla può rimbalzare, quindi puoi fare gol anche da rasoterra Ma hai la difficoltà, attenzione, dei palloni che sono in mezzo Sono tutti in mezzo Quindi, scegliete come calciare, ma hai questa difficoltà qua Va bene, dai Dai Allora, dal cinquantesimo in poi Prego, possiamo partire Golla Attenzione Fuori Hai toccato la GoPro Fuori La difficoltà è anche quella Bellissimo questo gol Devo capire quali volano e quali no Fuori anche questa Stai sprecando Dai Attenzione Fuori anche questa Mira, mira, mira la, mira la porta questa Attenzione Bella Bella Hai capito il meccanismo Sessantesimo entrato, 61 siamo Attenzione Bellissimo Bellissimo gol Bellissimo questo Attenzione No Fuori Bello Di sinistro Bellissimo questo Eh sì eh Funzione a giro Vediamo Gol Signori Vediamo se ci arriva No No Traversa Signori Traversa Non è entrata Traversa Non è entrata Clamoroso Attenzione Gli ultimi Molto bello Molto bello Questo è quello che vogliamo vedere Gli ultimi due Palloni Fuori L'ultima 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 Quella No Clamoroso Clamoroso Io adesso non so quanto sei Farei entrare giustamente il giudice Però ti posso dire Per me hai un po' sprecato troppo Quanto sono Io prima di dire quanto hai fatto vorrei dire una cosa a tutti quelli che ci guardano Questi errori sono la prova che questa sfida non è così facile come si crede È più difficile di quello che si pensa E dico un'altra cosa Se questa sfida fosse con gli stessi palloni Quindi 100 palloni uguali Tu sai in che modo tirare Il problema è qua Ogni pallone è diverso Alcuni girano Alcuni non girano Alcuni sono più gonfi Alcuni sono più sgonfi Quindi questi sono 100 palloni veramente diversi Eh esatto è questo l'obiettivo Abbiamo pensato apposto a questa cosa perché poteva essere inizialmente Complicato Una difficoltà importante Lo è Perché non sono 100 palloni uguali No Ma magari dalla seconda stagione potrebbero cambiare le cose Potrebbero essere tutti i palloni uguali ma con difficoltà diverse Ah vabbè Allora già sono palloni uguali Quindi Questo giro ancora peggio di quello di prima 11 soli Quindi sono a 11 su 20 51 Vabbè dai dai Ce la puoi fare Per me ce la puoi fare Fattibile per battere Giambri Per battere Giambri Fattibile però Io non so battere Giambri Allora è fattibile Io voglio vedere poi gli altri che vengono Tu ti vorresti vedere Allora io vorrei Campolunghi Gilbert Nana Si Le dico 3 Campolunghi Gilbert Nana E poi vorrei In questa qua Nick Pirlo E secondo te chi è che può far di più Gilbert Nana Va bene Allora Direi che ci sono gli ultimi 30 Hai gli ultimi 30 palloni Quindi ancora nei tanti Non so come tirare Guardati poi cosa c'è davanti Potenzialmente puoi fare 30 su 30 Dai Forza adesso Hai tanti più palloni in mezzo eh Quindi quando vuoi Quando vuoi Allora si riparte Attenzione Goal Attenzione Attenzione Presa in pieno la GoPro Presa in pieno la GoPro Non è bonus questo? Non è bonus questo? Attenzione Buona Anche questa Attenzione No Ti ho Ugo Pro Ok Vai 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 Bello Attenzione Bello Attenzione Nooo Oh perfetto eh È uscito all'ultimo signori Fuori Dalla traiettoria Bello questo Devi mirare centrale Sì 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 Attenzione Buona Nooo Incredibile Traversa ancora Legni su legni Bello Fuori Vabbè dai Fuori Il palloncino cazzo Bello questo Bellissimo Fuori Che sfiga Dai Buona Brava Non è vero Attenzione Eh vabbè Ah Forse ha trovato la tappa Buona È troppo lontano Bello Bellissimo Dai signori Ha preso la mano Stiamo avvicinando Bello questo Bello No Altro tiro Altro tiro Dentro 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 Bello No brutto 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 Fuori Questo è bruttissimo Questo è brutto E si vede Fuori Non devi dare forza Bello 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 Bellissimo Ultimi tre E poi abbiamo gli ultimi dieci Fuori Frecata Attenzione Fa gira Fuori dalla traiettoria Signor L'ultimo Tiro Ultimo tiro Attenzione Goal Ultimi dieci E la chiude Così Con un Goal Ho calciato uno di troppo Perché ero preso la foga Giudice Vabbè dai Hai calciato uno di troppo Giudice Allora Hai calciato uno di troppo Questo è vero Però contando che hai fatto schifo prima Lo facciamo valutare Va bene Va bene Non siamo stati attentissimi Ne hai calciato uno di troppo Quindi partirai da nove E non Ok Da dieci Però 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 Secondo me qua ha sprecato abbastanza Qua allora Un po' hai sprecato Un po' la sfortuna che Continua a picchiarti Sì questa è sfortuna Diciamolo dai Cioè davanti alla porta io ho almeno cinque tiri Ho preso quattro traverse e tre alti Sette otto tiri Eh sì Dove la palla mi andava sopra rimbalzando Eh deve essere brava a valutare anche quello Come il turno precedente hai fatto di nuovo undici E sei a sessantadue Ah Dai 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 Non diciamo quando ha fatto Gabri Perché così lo vanno a vedere Però sono molto vicino Sei molto vicino Madonna Potenzialmente siccome ne ha nove Posso fare Posso farlo Posso fare 71 Attenzione please E potrebbe essere Il nuovo record Quanto è lungo da qua Eh da qua è lontano Dopo 80 palloni 90 palloni che calcio Eh la stanchezza si fa sentire Ultimi 9 palloni Poi Traiamo Le conclusioni Esatto Riuscirà Jay Pat a fare il record di questa 100 palloni football challenge? Lo scopriremo tra pochi palloni Ultimi 9 tiri Let's go Allora Puoi partire quando vuoi Quando vuoi Attenzione Attenzione Fuori 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 Attenzione Attenzione Questa è buona Goal Attenzione Questa E Attenzione Non è vero signori Non è vero Jay ho scommesso su di te Allora Questa è brutta Questa è brutta come vuoi no non è bello ultimi 4 palloni poi abbiamo finito fuori fuori anche questo ultimi 3 palloni per fare la differenza non è vero 64 per battere Gabri guarda sta facendo immagino aia attenzione è gol signori aveva rischiato tantissimo aveva preso il palo aveva preso il palo no ragazzi clamoroso oh 5 centimetri più in là ed era palonetto signori polemiche vado a vedere è gol è gol è gol è gol siete cascati però allora la VAR conferma è gol e quindi nuovo record stabilito signori 65 palloni per il 66esimo per il 66esimo secondo me siamo divertiti siamo divertiti 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 incazzati ancora di più perché 10 traverse prendendo sono d'accordo prendendo il terreno prima della traversa è brutta ragazzi complimenti per aver terminato la challenge 66 bravo bravo quindi 2 gol in più del record bravo bravo è spaccato è spaccato nonostante la sfortuna ce l'hai fatta bravissimo pensavo facesse ad un certo punto 45 ma sai chi è davanti ma lo sai chi è davanti è imbarazzante come di media hai fatto meglio gli ultimi 9 tiri 10 tiri che dal 50esimo al 70esimo davvero hai fatto ben 5 gol negli ultimi 10 hai fatto la metà bravo quindi con un totale di 66 Jay Pata si aggiudica il primo posto la 100 palloni football challenge signori signori è stato un magnifico video io vi ringrazio come sempre per aver visto fino alla fine questo video ma prima ringrazio i nostri fratelli fratelli quando ragazzi seguite tutti quanti nei loro profili social già li conoscete Jay Pata per aver partecipato a questa challenge e tutti gli altri qua alle mie spalle e anche Beatrice Bigoni un applauso fatemi sapere se la rivolete nei prossimi episodi un commento se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo ad un altro grande episodio scrivete chi volete nel prossimo quale partecipante dovrebbe venire a fare questa challenge e chissà se magari un giorno Bea è una cosa beeea 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 bravo Samone è tutto ci vediamo in un altro grande contenuto in un altro 100 palloni football challenge ci vediamo al prossimo video let's go ciao ciao Grazie a tutti.